Il sindaco Biffoni Il terremoto in Turchia e Siria, domenica 19 febbraio, raccolta straordinaria nelle chiese di Prato promossa dalla Caritas Il manifatturiero pratese fa meglio del resto d'Italia e chiude il 2022 con un più 6,8% Anche TV Prato al festival della canzone italiana, al via il format Sanremo in giro con Franceschino DJ Una buona giornata dalla nostra redazione, ben trovati a nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato È il giorno del derby pistoiese Prato che però si disputerà senza tifosi per motivi di ordine pubblico È una decisione difficile da comprendere, chi accetto con rammarico è stata rovinata una grande serata di sport Così il sindaco Matteo Biffoni Ora 19.45, fischio d'inizio in campo pistoiese Prato È uno dei derby più attesi in assoluto ma si disputerà senza pubblico sugli spalti La decisione della prefettura di Pistoia di far giocare la partita a porte chiuse È legata a fattori di ordine pubblico in seguito a un video circolato sui social Nel quale una persona invitava i supporters della pistoiese a recarsi in un piazzale di una ditta Posta lungo la linea ferroviaria che collega Prato a Pistoia Dove erano stati ammassati centinaia di blocchetti di porfido Pronti per essere lanciati contro il treno dei tifosi pratesi Per la gara era atteso l'arrivo di circa 800 sostenitori biancazzurri Da qui la decisione di disputare la gara a porte chiuse che ha suscitato polemiche e la rabbia dei tifosi Il presidente della Cip Prato Stefano Comini ha espresso profondo rammarico per il provvedimento della prefettura Oggi interviene anche il sindaco Matteo Biffoni Sarebbe dovuta essere una giornata di festa sportiva per i tifosi che come me avevano già il biglietto in tasca Pronti a sostenere i biancazzurri in questa trasferta così sentita, afferma Biffoni Per una decisione che rispetto che in quanto uomo delle istituzioni per me diventa legge Per quanto fatichi a capire che mi dispiace molto è stato scelto di giocare a porte chiuse, aggiunge il sindaco La delusione è tanta perché sarebbe stata una bella trasferta soprattutto dopo quello che avevamo visto all'andata a lungo Bisenzio Biffoni ringrazia comunque la curva ferrovia Matteo 27 per il grande lavoro fatto Con l'organizzazione della trasferta, la mobilitazione di centinaia di tifosi, la coreografia già pronta Il pensiero va poi alla squadra, ai giocatori dico che anche nel silenzio dello stadio vuoto Sanno di poter contare sul sostegno di tutta la città, Prato è con loro, conclude Biffoni Ascoltiamo adesso le parole dell'allenatore dell'anieri Lucio Brando in conferenza stampa alla vigilia del match Innanzitutto ci preme dire che siamo molto molto dispiaciuti per quello che sono state le decisioni prese Chiaramente ci sono delle motivazioni alle spalle, su questo non ci piove, però per noi è un grosso peccato Perdere una cornice di pubblico del genere in una partita così importante sicuramente non fa del bene al Prato Non fa del bene alla Pistoiese, credo neanche a tutti quelli che sarebbero venuti a vedere una partita di calcio secondo me bella Due squadre che sicuramente negli ultimissimi giorni non hanno raccolto un buon risultato E' offerto magari una prestazione esaltante, ma credo due squadre che giocano un buon calcio Due squadre che hanno della qualità Quindi per chi poteva avere l'opportunità di vedere questa partita secondo me si sarebbe divertito Una raccolta straordinaria a favore delle popolazioni della Turchia e della Siria duramente colpite dal terremoto Lo annuncia la Caritas diocesana di Prato per domenica 19 febbraio Quel giorno le offerte in denaro raccolte in tutte le chiese e parrocchie pratesi Saranno devolute per sostenere gli interventi messi in campo da Caritas italiana per far fronte a questa gravissima emergenza Prato inoltre è in contatto diretto con il presidente di Caritas Turchia, Monsignor Paolo Bizeti Che in passato ha seguito e formato i primi diaconi permanenti ordinati in diocesi Ci hanno chiesto di sostenere economicamente gli interventi e il coordinamento posti in essere dal gruppo di lavoro Che sta operando in Turchia, afferma il direttore della Caritas diocesana di Prato Donenzo Pacini Chi vuole può effettuare una donazione sul conto corrente della Caritas diocesana di Prato Specificando in causale terremoto Turchia-Siria Un 2022 con segno positivo nettamente superiore alla media italiana E' quello chiuso dal distretto produttivo pratese che si affaccia al 2023 con numeri in leggera frenata Tante le questioni calde che condizionano i mercati, le prospettive sono però positive Sentiamo il servizio con il report di inizio anno di Confindustria Toscana Nord Dopo un 2020 nero e un 2021 in ripresa, il 2022 ha visto la produzione industriale del distretto pratese Superare le performance medie del resto d'Italia Il 2022 è stato infatti un anno nel complesso positivo, seppur con una contrazione alla fine Come mostrano i quattro trimestri, oggetto delle rilevazioni del centro studi di Confindustria Toscana Nord Il manifatturiero chiude l'anno passato registrando un più 6,8% rispetto al 2021 Che aveva a sua volta segnato un più 9,3% successivo al crollo produttivo causato dalla pandemia Più 1,3% invece il tasso medio di crescita del manifatturiero italiano Tutti decisamente positivi i principali settori pratesi Più 8,7% per il tessile, più 6,6% la meccanica, più 3,4% l'abbigliamento maglieria In forte frenata però rispetto all'esponenziale più 24,2% del 2021 Sicuramente l'andamento del 2022 è stato migliore E' vero anche che il nostro distretto era ripartito un pochino più lentamente rispetto ad altri settori Quindi ha recuperato nel corso del 2022 Però le nostre aziende si dimostrano presenti in modo vivace sul mercato Come è confermato anche dall'andamento delle fiere che stanno registrando molto interesse e una buona affluenza di clientela Buono anche l'export che tra gennaio e settembre 2022 colleziona un più 22,3% Circa due punti percentuali in più rispetto al risultato italiano pari al più 20,4% Per il 2023 il nemico numero uno è rappresentato dall'inflazione Ma anche la questione gas ed energia resta sospesa così come la guerra russo-ucraina Al netto di queste gravi incertezze le prospettive sono relativamente positive Dopo l'estate si dovrebbe assistere ad una ripresa consentita dal contenimento dell'inflazione Capitolo a parte è quello relativo alle costruzioni Il 2022 è registrato un più 22,2% di ore medie mensili lavorate dagli operai iscritti alla cassa edile Dopo l'esplua post-covid rallenta molto la parte residenziale privata A causa delle modifiche ai bonus edilizi Resiste invece la fetta del mercato pubblico Centrale l'occasione offerta dai fondi del PNRR e anche del privato industriale Con diversi ampliamenti di capannoni e nuove costruzioni Il più giovane dirigente della pubblica amministrazione in Italia È il toscano Bernard Dica, portavoce del governatore Eugenio Gianni Dica questa mattina era ospite della rassegna stampa Prima di tutto dove ha raccontato la sua storia Sentite Come si fa ad arrivare a fare il portavoce del Presidente della Regione a 24 anni? Hai bruciato le tappe? Non credo ci sia mai stato un portavoce più giovane Infatti non è merito mio ma è merito del Presidente Gianni Che ha deciso di nominarmi e il coraggio suo di aver nominato il dirigente della pubblica amministrazione più giovane in Italia Però è vero anche che troppo spesso sono tutti sorpresi che io sia lì a soli 24 anni Io non sono figlio di politici, non vengo da una famiglia affatto politica Non vengo da una famiglia ai giornalisti Io sono nato nel 1998 in Albania Mio padre era venuto già in Toscana nel 1994 con uno di quei barchini che venivano dall'altra parte del mare Adriatico Pagando un sacco di soldi allo scafista che accompagnava questi albanesi che cercavano un futuro migliore Da un paese in cui era caduta la dittatura, in cui c'era l'ordine civile E quindi venendo in qua è arrivato a fare il muratore senza alcun tipo di documento Un giorno in cantiere arrivano e trovano questi operai senza documenti e vengono tutti rimandati indietro Lui torna indietro, ritorna in Italia allo stesso modo come aveva fatto la prima volta nel 1996 E ritorna a fare il muratore nello stesso comune in provincia di Pistoia a Larciano Dove era stato apprezzato e io devo la mia presenza in Italia a mio padre che ci è venuto E a quel maresciallo dei carabinieri del comune di Larciano E quel giorno quando mio padre tornò lo prese, lo portò in questura e fece da garante della persona per bene che era Al via ieri sera il festival di Sanremo Sul palco anche Roberto Benigni col suo omaggio ai 75 anni della Costituzione Anche TV Prato è presente nella città Ligure con il nostro inviato Franceschino DJ Protagonista tutte le sere alle 20.05 del format Sanremo in giro Vediamo quindi alcuni momenti salienti della prima puntata Questa sera il secondo appuntamento Girando per Sanremo, non appena arrivati, noi troviamo uno degli autori di questo festival Ormai da anni, non per dire, non per una questione d'anzianità ma per una questione proprio di vecchiaggine Walter Santillo, quanto è che sia Sanremo? Una vita? Quest'anno è già troppo praticamente, sono arrivato già a me No, da quant'anni è? 7-8? Non lo so, non mi ricordo nemmeno io Sono tanti, anche quest'anno ti prendi cura del primo festival Quindi diciamo dell'anteprima, prima della serata del festival Sì Ranna Oxa, viva lei! E quindi te la voterai sicuramente? Beh la voterò, sì la voterò anche, va bene dai voterò Anna Oxa No, non lo guarderò Signorina, io la disturbo mentre stavo facendo gli affari suoi Soltanto per sapere quando ti potremmo risentire sul palco dell'Ariston So che mi starei per dire, non dipende mica da me Ah infatti, non dipende mica da me Però quest'anno a Sanremo che ci fai? Siamo riusciti a partecipare a Casa Sanremo Live Box Che si sta svolgendo proprio oggi E ne approfitto perché, visto che è uscito il mio ultimo singolo in questi ultimissimi mesi Che si intitola Disco Rotto Ed è il momento delle previsioni del tempo Come sempre a cura del Consorzio Lamma Un saluto dalla sala meteo del Consorzio Lamma Le immagini del satellite è piuttosto simili questa mattina a quelle osservate nei giorni scorsi Ancora prevalenza di alta pressione su buona parte dell'Europa Mentre aria più umida e instabile interessa Interesserà nei prossimi giorni buona parte del Mediterraneo Dando luogo a del maltempo sulle regioni meridionali della penisola Per quanto riguarda la Toscana Il resto della giornata di oggi, mercoledì Ancora prevalenza di bel tempo sulle zone occidentali Addensamenti invece in Appennino, soprattutto quello a Fiorentino e Aretino Dove non si può escludere l'occorrenza di modestissime nevicate Con accumuli poco significativi Per quanto riguarda la giornata di domani cambia poco Ancora prevalenza di bel tempo sulle zone occidentali Anche per domani non si può escludere qualche addensamento in Appennino Si mantiene ancora costante il flusso da est-nord-est Benché in attenuazione con mare poco mosso sotto costa E senza variazioni di rilevole, temperature né valori massimi Con questo è tutto, grazie dell'attenzione E con il meteo è tutto Vi ricordiamo alle 17.30 in diretta dalla Chiesa dell'Annunciazione Alla Castellina, alla Recita del Rosario A seguire la celebrazione della Santa Messa Feriale L'informazione di TV Prato torna questa sera alle 20.30 Grazie per averci seguito e arrivederci Grazie a tutti